ciao a tutti oggi voglio fare un brevissimo tutorial di come essere sicuri che la nostra webcam e microfono siano attivati correttamente durante le riunioni vado sul calendario riunione immediata vado sulla rotellina installazione personalizzazione e seguo la voce di registrazione all'interno di teams seguendo passo passo le istruzioni si attiveranno correttamente le webcam e i microfoni e il sistema mi domanderà se sono soddisfatto dei parametri installati quindi installazione personalizzazione effetto una chiamata di prova e seguo la voce registrata dopo aver seguito tutto il percorso posso anche chiudere la chiamata e mi comparirà questa schermata dove sarà avvistato in verde se tutto ha funzionato correttamente grazie per avermi seguito alla prossima